Benvenuti a Mahashivaratri 2023. In questa notte sacra, se mantieni la veglia e un certo senso di consapevolezza, porterà enorme benessere alla tua vita. Questo Mahashivaratri ricevi gratuitamente Rudraksha Diksha, un seme di Rudraksha appositamente energizzato e consegnato a casa tua. Questa non è solamente una notte di veglia. Questa deve diventare una notte di risveglio per ciascuno di voi.